Il treno regionale 5579 di Trenitalia proveniente dalla mezzia ferme centrale e diretto a Crondone delle ore 17.24 è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla ferma a Catanzaro, Catanzaro Lido, Cropani, Potricello. Il treno regionale 5579 di Trenitalia proveniente dalla mezzia ferme centrale e diretto a Crondone delle ore 17.24 è in arrivo al binario 3. Attenzione! Il treno regionale 5579 di Trenitalia proveniente dalla mezzia ferme centrale e diretto a Crondone delle ore 17.24 è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla ferma a Catanzaro, Catanzaro Lido, Cropani, Potricello. Toro a Catanzaro, 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 Piccolo, Cropani, Potricello, Catanzaro c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti.